Un bilancio illegittimo, manca il piano di rientro, un bilancio che non vede più la possibilità della riduzione delle tasse, viene meno la programmazione e soprattutto la promessa del governo Marsilio e tutto ciò perché hanno prodotto disavanzo in sanità con oltre 100 milioni di euro di mobilità passive e quindi migliaia di abruzzesi che vanno a farsi curare fuori e tutto ciò nonostante le centinaia di milioni di euro aggiuntive che lo Stato ha trasferito proprio per la sanità. Ecco perché contestiamo profondamente questo bilancio di previsione che pure nasceva sotto diversi auspici. Quest'annualità vedeva chiudersi tutto l'ammontare delle cartolarizzazioni grazie al piano di rigore che era stato portato avanti nella scorsa legislatura ebbene degli oltre 41 milioni di euro di risorse in più disponibili per le cartolarizzazioni nulla andrà all'abbattimento delle tasse, nulla andrà per il sociale e per i trasporti e tutto purtroppo sono andate per quanto riguarda le leggi Mancia e le leggi Omnibus. Non possiamo che essere contrari a questo tipo di bilancio.